buongiorno a tutti i ragazzi del vostro carta al curva nord ecco qua video di giornata come ormai di consueto faccio ormai tutti i giorni spero che vi faccia compagnia questi video allora ragazzi ufficiale barella al nuovo giocatore dell'inter ne parlavamo due giorni fa che era quasi ufficiale vi ho già detto che cosa penso appunto di questo acquisto onerosissimo 45 milioni appunto di euro per un giocatore come barella nicolò barella io lo sapete già ho fatto anche un sondaggio su instagram e voi mi avete risposto che 45 milioni sono giusti c'è qualcuno che dice vabbè ma vengono pagati in due anni tutto sommato te costa poco a quest'anno a bilancio sì ok sono veramente d'accordo con voi ma io mi aspetto grandi cose da barella mi aspetto grandi cose e voglio le giuste ambizioni voglio le giuste ambizioni da un giocatore come nicolò barella uno lui ha sempre professato di essere interista ben venga questo è il tassello che mancava l'anno scorso a questo centrocampo che era molto orfano eravamo solamente appunto con marcello brozovice e quest'anno per fortuna possiamo affiancarli uno come nicolò barella da lui mi aspetto grandi cose da lui mi aspetto grandi cose sotto tutti i punti di vista le motivazioni e per il pagamento perché dopo 45 milioni 90 miliardi delle vecchie lire per il giocatore simile mi aspetto almeno un qualcosa di straordinario un passo di qualità è un giocatore che mi piace l'ho sempre detto l'ho sempre confidato anche a voi non è che a me mi dà mi dà fastidio anzi lo avete visto anche nella top 11 che io volevo appunto di quest'anno quindi ben venga nicolò barella adesso mi aspetto appunto che una volta fatto nicolò barella le risposte da manchester siano positive per quanto riguarda roman lukaku quindi bare benvenuto benvenuto bare mi raccomando non mi fa che mi fa via le barrellate in capoccia perché te lo do in capoccia se porca puttana non porti quello che devi portare quindi mi aspetto che un acquisto che quasi quasi da 100 miliardi da 100 miliardi sia un acquisto dignitoso e soprattutto prolifico io lo voglio prolifico questo acquisto voglio che questo acquisto sia un segnale abbiamo puntato da sempre su di te e dall'anno scorso che si parlava di lui a questo punto mi aspetto grandi cose da te caro nicolò barella sei arrivato nella squadra più bella del mondo ma soprattutto in un top team in nazionale stai giocando alla grande quindi adesso tira fuori le palle dimostra il tuo valore tecnico perché io voglio vedere un nicolò barella degno della maglia dell'azzurra e dei colori soprattutto dell'azzurra adesso sei arrivato dimostrati io ti do il benvenuto ufficialmente nel mondo inter da tifoso quale sono mi auguro il meglio per te e per noi quindi nicolò bare dagli sotto dagli giù e mi raccomando fai innamorare la piazza ti san siro che noi noi siamo esigenti noi siamo esigenti quindi nicolò benvenuto dagli sotto subito subito che te voglio subito vedere al debutto nell'international cup dagli e nicolò benvenuto nicolò